E' tutto pronto per l'incontro di Papa Francesco con i missionari della Misericordia, due anni dalla istituzione di questo speciale ministero, avvenuta durante il Giubileo della Misericordia. I sacerdoti provenienti da cinque continenti saranno ricevuti dal Papa che celebrerà con loro una Santa Messa a San Pietro. Previsti momenti di catechesi e testimonianze sulle attività pastorali svolte da ciascuno nelle proprie diocesi. Il nostro servizio. Si svolgerà dall'8 all'11 aprile il secondo incontro con i missionari della Misericordia con Papa Francesco, organizzato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Più di 550 missionari della Misericordia, provenienti dai cinque continenti, dice il Dicastero della Santa Sede, sono attesi per questo secondo incontro con il Santo Padre, a due anni dall'istituzione di questo speciale ministero, istituito durante il Giubileo della Misericordia. In queste giornate, si legge nel comunicato, i missionari ascolteranno delle catechesi, offriranno delle testimonianze sulle attività pastorali svolte nelle proprie diocesi e potranno celebrare il Sacramento della Riconciliazione, cuore di questo ministero speciale affidatogli dal Papa. I missionari, inoltre, riceveranno l'annuario che raccoglie i contatti di tutti gli 897 missionari della Misericordia attivi in questo momento. Centrale nel programma, l'incontro con Papa Francesco, in programma martedì 10 aprile nella Sala Regia del Palazzo Apostolico in Vaticano, dopo il quale i missionari concelebreranno la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Pietro, preseduta da Papa Francesco.